Oggi alla nostra intervista parliamo di cultura, del momento di crisi che sta vivendo la cultura e di come riuscire invece a sostenere i giovani ricercatori che spesso sono costretti persino ad emigrare all'estero. Ma c'è chi ha investito nella cultura, che crede nei giovani e vuol dare loro una chance. Il professor Maurizio Sangalli, che è qui con noi, è presidente e fondatore dell'Istituto Sangalli per la Storia e le Culture Religiose inaugurato proprio nei giorni scorsi a Firenze. Benvenuto professore. E come nasce l'idea di questo istituto a Firenze per la Storia e le Culture Religiose? Diciamo che l'idea dell'istituto nasce da una sorta di passione civica e civile, dalla possibilità di investire sui giovani che fuori di retorica rappresentano in ogni caso il futuro del nostro paese, in particolare investire sui giovani che si occupano di questioni di ambito umanistico. La cosa è legata ovviamente al mio percorso personale, come lei ha detto io insegno a Siena, all'Università per Stranieri di Siena, e mi trovo quindi quotidianamente a avere a che fare con i giovani e soprattutto negli ultimi 10-15 anni mi sono reso conto di quante difficoltà dopo la laurea, dopo il dottorato di ricerca, in particolare dopo il dottorato di ricerca, questi giovani hanno nel riuscire a continuare un percorso di vita e di ricerca che comunque li appassiona e quante volte si sono stati costretti a rinunciare. Mi sembrava quindi importante dare un segnale anche da parte di un privato, grazie al patrimonio della mia famiglia di origine, che ha origini lombarde, per fare in modo che in qualche modo questi giovani potessero essere supportati nella possibilità di realizzarsi nella vita, perché sono giovani pieni di entusiasmo e pieni appunto di voglia di fare, mi pareva importante riuscire ad aiutarli in qualche modo. E ce l'avete fatta perché mi sembra che questo istituto, oltre che bello, perché si trova in Piazza San Firenze, a Firenze proprio vicino nei pressi del Tribunale, e quindi dicevo, oltre che bello, è veramente in grado di offrire tante cose per questi giovani ricercatori. Ecco, come funziona praticamente il rapporto dei borsisti con l'istituto? Dunque, noi abbiamo, bandiamo delle borse di studio, per ora una prima borsa di studio semestrale e poi dalla fine di quest'anno, inizio anno prossimo, ne seguirà un'annuale di un'entità abbastanza consistente, diciamo, equiparabile a quanto i giovani ricevono durante il dottorato di ricerca. E successivamente alla borsa semestrale che si chiude, alla prima borsa semestrale che si chiude nei primi mesi dell'anno prossimo, ne banderemo una successiva. Cerchiamo con le forze che abbiamo, appunto, di impegnarci, di dare la possibilità ai giovani di andare avanti. Ci sono dei bandi che sono scaricabili sul sito internet dell'istituto, che si trova molto facilmente digitando anche solo l'istituto Sangalli su Google o comunque all'indirizzo www.istitutosangalli.it. Però, appunto, come lei diceva, l'istituto ha voluto acquisire fin da subito una sede molto prestigiosa, perché c'è anche un qualcosa che ruota intorno all'istituto, cioè la possibilità di offrire gli spazi di questa sede. E poi una foresteria che è legata a questa istituzione ha la possibilità di offrirla anche a esterni per riunioni, seminari, conferenze stampa, eccetera. E tutti i proventi di questa attività andranno a finanziare ulteriori borse di studio, premi, progetti di ricerca finanziati dall'istituto. Quindi, diciamo, un circolo virtuoso che vuole mettere un pizzico di imprenditorialità in un settore come quello umanistico che la conosce molto limitatamente e molto poco. Ci sembra anche questo un modo nuovo, innovativo, per moltiplicare le possibilità e le risorse di aiutare, e la possibilità di aiutare i giorni. Ecco, l'istituto è appunto un'istituzione laica a politica confessionale e si propone il dialogo, diciamo, interreligioso, anche appunto per quanto riguarda il lavoro e l'opera che voi vi proponete di fare, giusto? Sì, esatto. Fin da subito noi abbiamo voluto che fosse chiaro appunto che è uno spazio libero di riflessione. Ho parlato prima di passione civica e civile. Siamo stati molto onorati perché appunto nel corso dell'inaugurazione, nei giorni scorsi, ci è arrivato il messaggio da parte del Presidente della Repubblica Napolitano che ci incoraggia ad andare avanti su questa strada che da un certo punto di vista l'ho dato questo modello virtuoso e innovativo di concorso dei privati a sostegno e a sussidio del pubblico per il finanziamento della ricerca. Abbiamo voluto che all'inaugurazione fosse presente e portasse appunto i saluti un rappresentante dell'amministrazione comunale di Firenze, ma allo stesso tempo abbiamo voluto fortemente anche la presenza di tutti i rappresentanti delle comunità religiose locali, che ci hanno onorato appunto della loro presenza e quindi per noi è stato un segnale importante, anche perché l'Italia è destinata a diventare un paese sempre più multiculturale, multietnico e quindi multireligioso, per cui offrire ulteriori occasioni di incontro e di dialogo proprio legato appunto alle tematiche storico-religiose ci pare, accanto al finanziamento alla ricerca dei giovani, un altro punto fondante della nostra attività. Senta, perché proprio a Firenze? Ho letto che lei ha un'affinità con Giorgio Lapira in qualche modo, per cui nella città di Giorgio Lapira un istituto di questo tipo ci stava bene. Sì, sì, sì. Devo dire che la scelta fiorentina è legata, possiamo dire, anche al fatto che da una quindicina d'anni io opero, vivo e lavoro in Toscana, ma allo stesso tempo appunto i casi della vita hanno voluto che questa scelta fosse anche particolarmente felice, perché Firenze ha una tradizione di dialogo e di confronto tra confessioni religiose e tra religioni differenti che risale ben più in là del secondo dopoguerra, il riferimento ovviamente al sindaco Lapira è centrale, ma che risale addirittura al Rinascimento. Si citava appunto durante l'inaugurazione del concilio di Firenze del 1439, momento in cui per l'unica volta e anche forse purtroppo per pochi anni la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa si unirono nuovamente dopo che erano state divise a partire dal 1054. Quindi è un momento importante per il convivere civile del nostro paese, creare occasioni di incontro tra confessioni religiose e religioni differenti che invece purtroppo e tragicamente in molte parti del mondo si confrontano con conflitti sanguinosi. Se vogliamo offrire un futuro migliore al nostro paese dove arriveranno sempre più immigrati che appartengono ad altre religioni, dobbiamo moltiplicare, l'Istituto Sangali è solo una piccola possibilità in questo senso, moltiplicare le occasioni di confronto e di incontro e di dialogo tra le religioni. Ecco lei che sta a contatto con i giovani giorno per giorno, sa meglio di me come le materie umanistiche siano considerate un po' la cenerentola in ambito accademico e la nascita di questo istituto vuol dimostrare invece che questo non è vero o perlomeno che le materie umanistiche, le scienze umane possono avere davvero delle chance come le materie scientifiche. Guardi io mi trovo ad insegnare all'Università per stranieri di Siena a centinaia di ragazzi e tutte le volte che entro in aula mi chiedo come è possibile che tanti ragazzi giovani decidano di intraprendere la strada degli studi e della ricerca umanistica avendo, come purtroppo negli ultimi anni è sempre più frequente, sempre più scarse possibilità lavorative una volta laureati. La risposta che mi sono dato è che sono materie che coinvolgono la passione intima di una persona perché altrimenti non si spiegherebbe questo fatto e quindi siccome io sono sempre stato un appassionato ho avuto voglia di aiutare anche la passione e la realizzazione della vita di altri giovani che come me hanno fatto molta difficoltà ad andare avanti ma che appunto come me spero riescano a centrare il loro obiettivo di vita e di ricerca. Bene, allora ringraziamo il professor Sangalli per essere stato con noi, ricordiamo anche il sito dell'istituto www.istitutosangalli.it e con voi ci vediamo alla prossima intervista. Grazie a tutti.